Quindicesima edizione di Mutina Boica, siamo qui al Parco Ferrari con oltre 22 gruppi di associazioni di rievocazione storica, quasi 250 rievocatori, 40 mercatini, banchi artigianali del mercatino, tra cui il nostro mercato storico, oltre 15 banchi di street food e tante proposte gastronomiche per un programma di 5 giorni, questa è la grande novità dell'edizione per celebrare appunto la quindicesima edizione, per 50 eventi tra spettacoli teatrali, concerti, spettacoli di ricostruzione storica, tutti incentrati quest'anno sulla prima volta in cui Mutina fu nominata dalle fonti storiche, il 218 avanti Cristo, questo l'episodio che guida questa edizione, che quest'anno è anche lo spunto per una novità, la produzione di un fumetto realizzato in collaborazione con Franco Cosimo Panini, che racconta appunto una storia inventata ma ambientata in quella che è stata la prima volta in cui Mutina è comparsa dalle pagine della storia, il 218 avanti Cristo, all'alba della seconda guerra pubblica. Mutina Boica è tanto teatro e tanto spettacolo e tanta rievocazione, il nostro teatro storico d'azione che racconta la storia antica in una chiave assolutamente nuova, divertente e appassionante, tanta attività per bambini con il cammino del piccolo guerriero che coinvolge bambini dai 4 agli 11 anni e li catapulta in un villaggio celtico del III secolo avanti Cristo, c'è tanto artigianato storico, ci sono i migliori artigiani che creano i manufatti esattamente come si faceva nell'età del ferro con i materiali dell'epoca e in alcuni casi anche i procedimenti che gli antichi celti, gli abitanti della pianura padana, utilizzavano appunto in quelli che erano appunto i nostri territori. Siamo nella ricostruzione di un accampamento dei Galliboi, una delle tribù dei celti che abitavano appunto in queste terre, le terre intorno all'antica Mutina, nome poi della colonia che sorse pochi anni dopo la definitiva romanizzazione della pianura padana. A Mutina Boica si rivedono appunto gli usi, i costumi, gli accampamenti di quelle popolazioni ma anche delle popolazioni dell'insubria, dei cenomani, tutte le popolazioni che abitavano nel nord della pianura padana fino ai greci, gli etruschi più ovviamente i romani che appunto poi in quegli anni nel terzo secolo avanti Cristo diventarono poi i padroni di tutte queste terre. Nella striscia di terreno che separa gli accampamenti Annibale e Scipione si incontrano. Da un lato il cartaginese, più vecchio ma più bello, ancora vigoroso e scattante, vestito da semplice cavaliere. Dall'altro il romano, precocemente invecchiato e quasi calvo. Vi aspettiamo a Mutina Boica, al parco Ferrari, il programma di 50 appuntamenti veramente ricco fino all'appuntamento da tutti richiesto, ormai nostra tradizione, la battaglia di ricostruzione storica che quest'anno si occuperà proprio del 218 a.C., la grande rivolta dei Boi in occasione della calata di Annibale all'inizio della seconda guerra punica. Vi aspettiamo. rosserrati negli scudi per sottrazi alla furia dei cavalieri.